Pensiamo a fare bene partita dopo partita, è normale che adesso i risultati sono dalla nostra parte, quindi pensiamo anche a fare un filotto di risultati che abbiamo visto all'andata ci ha permesso di scalare la classifica, quindi bisogna pensare come ho detto prima, partita dopo partita e poi come ho sempre ribadito i conti si faranno alla fine. È normale che giochiamo con la prima della classe, quindi non sarà una partita facile. Però la nostra squadra è una squadra costruita apposta per fare bene, quindi non dobbiamo spaventarci di nessuno. Non lo so se è scattato qualcosa dopo l'arrivo del mister, sicuramente adesso i risultati sono dalla nostra parte, quindi come si dice bisogna battere il ferro finché è caldo e quindi continuare a fare bene che alla fine potremmo tolglierci qualche soddisfazione. Beh, a parte il fatto che sappiamo, tutti sappiamo che la colpa è nostra, che fondamentalmente scendiamo noi in campo il sabato, quindi è normale che i primi responsabili siamo noi, quindi dovevamo farci tutti un esame di coscienza e poi quando succede un cambio del genere in ognuno di noi scatta qualcosa magari per dimostrare quello che non l'ha dimostrato finora e di conseguenza una cosa tira l'altra ti porta a fare bene. Infatti i risultati si stanno.